neanche alle spalle, senza la S, sembra che da storia vera, girata, scantola, da giornali seri, che non so qui a raccontarvi perché veramente non ce ne stanno in Italia, se no a me non ce ne stanno, sono solamente due, le fonti attendibili sono che la storia sia andata più o meno così. Non scherzare col fucile, far così non è gentile ma la sonda, Teresa ti prego, io non sono certo un miner, sto che quel fucile può sbordare, è stata una follia, l'ho incontrato per la via e lei disse, vieni a casa mia Dio, cosa mai potevo fare, sai, un bacio ha domandato e te lo giuro l'infiutato, e dobbiamo poi parlare, penso un po', sempre di te, sì, e già penso a me, ti prego, non scherzare col fucile, far così non è gentile ma la sonda, te lo è stato una follia, l'ho incontrato per la via, lei disse, dia di occasione ed io, ormai potevo fare, sempre lei, un bacio ha domandato, sai, e te lo giuro l'infiutato, non puoi sapere, non puoi parlare tutta la notte, giuro amore, sempre di te, è già perso un tele, ti prego, non scherzare col fucile, far così non è gentile ma la sonda, e sai, ehi, 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 Teresa, no, non mi sbalare, Teresa, mi ha detto, prego, non so leoppa, yeah!